Quando ti sei unito alla divisione, che cosa ti aspettavi? Di sicuro ti hanno parlato dei sacrifici da compiere, di ciò che prima o poi avresti dovuto fare. Ma nessuno di noi poteva prevedere questo. Se c'è una possibilità di rimettere in piedi questa città, beh, allora, dipende tutto da te. Appena arrivati, questo posto era distrutto. Ma col tempo potrebbe diventare la nostra casa. Da qui abbiamo dato il via a innumerevoli missioni in tutta la città cercando gli altri. Dottori, ex poliziotti, ingegneri, persone che ci aiuteranno a ricostruire il nostro mondo. La fuori avrai bisogno di tutto il tuo addestramento ed equipaggiamento. Ogni battaglia vinta ti renderà più forte. Avanti, fatti sotto! Ogni sfida ti renderà più potente. Passa un po' di tempo per conto tuo e presto capirai che se non combattiamo insieme, morirai da solo. Altri agenti hanno costruito dei rifugi in tutta la città. Dovrai collaborare e combattere con loro. Dobbiamo affidarci alle nostre forze per salvare ciò che resta e dare a New York la possibilità di combattere per qualcosa che pensavamo perso. La speranza. Dobbiamo collaborare, unire le nostre capacità e combattere insieme questa battaglia. Sei qui per un motivo e non avere dubbi. Ci riprenderemo la nostra città. Durante il tuo percorso troverai un posto al di là di queste mura. È la zona nera. Un luogo di avidità e paura dove non ci si può affidare di nessuno. La nostra lotta è solo all'inizio.